I centri per l'ottica diventano sempre più punto di riferimento per gli italiani che si rivolgono a queste strutture per l'acquisto di occhiali sia da sole ma chiaramente anche per la vista. Parliamo di questo con Elena Mulas che a Dorgali è responsabile di Ottica Mulas e alla quale chiedo immediatamente di raccontarci un po' quali sono le principali esigenze di chi si rivolge a una struttura come questa. Normalmente le persone arrivano nel centro ottico perché hanno delle problematiche visive quindi magari sono passati qualche volta prima della parte dell'oculista ma molte volte siamo noi i primi che accogliamo queste persone che vengono a raccontarci problemi che possono avere. In genere le fasi principali sono due, vengono perché non sono passate all'esame della patente oppure perché banalmente come si dice in maniera un po' popolare non vi bastano più le braccia per leggere perché quindi sono arrivati ad un'età in cui comincia ad essere necessario un aiuto per l'approccio della visione del vicino. Ecco le montature vengono spesso e volentieri influenzate dalla moda al momento, come possiamo leggere questo fenomeno? Allora sicuramente la moda e il fashion sono fondamentali, l'Italia è prima in classifica per quanto riguarda il fashion e la moda nell'occhialeria come in tante altre parti. Sicuramente bisogna fare attenzione perché non cedere troppo alla tentazione dell'ultima moda, l'occhiale gigante, l'occhiale soprattutto se parliamo di occhiali da vista perché finché si rimane nell'ambito dell'occhiale da sole va benissimo anche forme strane, un po' particolari, purché abbiano delle belle lenti. Quando parliamo di occhiale che deve rispettare dei canoni tecnici per l'occhiale da vista, allora va benissimo la moda, ma va poi vagliata dalla parte tecnica, dal supporto tecnico. Mi è sembrato di capire che lei parla spesso di benessere visivo, ci può spiegare meglio? Allora benessere visivo è sicuramente lo star bene in generale, lo star bene con gli occhi, quindi vuol dire star bene con la vista, ma anche star bene con gli occhiali che uno compra. Quindi io ho un motto da tanti anni ormai che è vedere bene per vivere meglio, quindi vuol dire che sono congiunte queste due cose. Il benessere visivo specificatamente è aiutare il cliente che viene a fare una scelta riguardo la montatura, come dicevamo prima che non deve essere solo moda, aiutandolo nelle lenti. Oggi la tecnologia ci aiuta, ci porta ad avere tantissime possibilità e quindi anche permettere di avere una lente più performante alla fine dà un benessere visivo alla persona. Ha parlato di persone, tra le persone consideriamo anche le fasce più piccole di età, giusto? Assolutamente sì. Purtroppo c'è una cosa che succede spesso con i bambini, magari sull'occhiale da vista stanno attenti i genitori, cercano anche delle lenti, delle belle soluzioni. Sull'occhiale da sole qualche volta si trascura un po'. Tanto il bambino lo rompe, tanto è piccolo, tanto non gli serve. Nella realtà utilizzare un sistema di occhiale da sole non di qualità, proprio per il bambino, è assolutamente deleterio, è molto più pericoloso che non usare un occhiale scarso, un adulto. Perché il bambino ha un occhio molto più sensibile, molto più ricettivo alle radiazioni ultraviolette e quindi sicuramente è necessario proteggerlo molto di più. Ha menzionato l'estate, dunque mi viene da chiederle qual è il consiglio rispetto a un filtro solare che può essere utile per tutti. Allora io metterei in pole position assolutamente la lente polarizzata. La lente polarizzata è una lente spettacolare da un punto di vista ottico, toglie completamente il riverbero dalle superfici, quindi quando uno la indossa, spesso la vendo senza neanche chiacchierare troppo. Lo consegno al cliente, lo faccio uscire fuori e dico guarda, basta quello per fare effetto wow, perché la qualità dell'immagine è assolutamente superiore. Sembra di vedere in HD, quindi sicuramente consiglierei delle lenti polarizzate quasi sempre. Invece in ambito occhiali da vista? Beh, occhiali da vista sicuramente è la cosa un po' più tecnologica, che stanno, oltretutto ci sono degli studi, stanno sempre evolvendosi, sono senz'altro le lenti progressive, o cosiddette lenti multifocali, sono lenti che permettono, gli occhiali che permettono di, con un unico occhiale, di vedere sia da lontano che da vicino. Quindi risolvono tanti problemi, i leve metti, gli occhiali che si rompono, dove l'ho messo e così via. Invece con questo sistema hai in un unico occhiale la visione di tutte le distanze. È un occhiale tecnico, è un occhiale che va studiato bene, perché così le persone si abituano. Purtroppo spesso è un po' denigrato, perché il cugino del fratello o dello zio non si è mai abituato e quindi ti portano a sconsigliarlo. Nella realtà se è studiato bene, fatto bene, dedicando un po' di tempo alla paziente, al cliente, quando ce l'hai davanti, assolutamente è un risultato spettacolare. Cioè sei tornato indietro di vent'anni. Perché in realtà è la personalizzazione che conta. Certo, assolutamente sì. Parlo ad hoc sulla persona, questo è fondamentale. Grazie mille per il suo tempo. Grazie a voi.